Io avevo 14 anni quando ho deciso di fare la hostess o l'indossatrice, sono nata a Tripoli di Libia il 15 ottobre del 43 e quindi vivendo in Africa ho avuto questa felice idea di imparare le lingue così un domani potevo andare a fare il lavoro di hostess o andare in giro per il mondo per cui mi sono trovata a prendere una decisione all'età dei 17-18 anni e ho pensato visto che abbiamo il re Idris in Libia un domani questo re morirà e quindi ci cacceranno via perché non è più la nostra colonia per cui ho deciso di fare domande nei vari l'italia l'ho fatto alla Libiavia l'ho fatta alla KLM a varie compagnie che c'erano in Libia in quel momento e così subito una delle domande mi è stata accettata dalla Libiavia ho volato con loro sei mesi ma non mi è piaciuta come compagnia come personale in questo frattempo mi ha chiamata l'alitalia e sono andata ho deciso la mia compagnia di bandiera visto che un domani pensavo che appunto il re Idris avrebbe sarebbe morto e quindi noi qualcosa dovevamo fare o rimanere in Libia con i libici o andare via andare rientrare in Italia e così è andata quindi ho lasciato l'alitalia mi sono trasferita a Roma come assistente di volo ecco come sono entrata nell'aviazione civile quando sono iniziata a lavorare all'alitalia nel 62 31 maggio 62 alla Libiavia invece è stato nel 61 più o meno perché poi prima di questo l'ho lavorato anche all'armata inglese d'estate in Libia c'era la base americana e la RAF Royal Air Force inglese e da lì ho preso tutte le varie decisioni di di entrare in queste compagnie Ascolti Abbiamocchi Abbiamocchi Grazie a tutti